allora buongiorno oggi faremo il latte di mandorla abbiamo preso 200 grammi di di mandorle eccole qua l'abbiamo messe in acqua l'abbiamo tenuti un paio d'ore adesso l'abbiamo messi nel frullatore mettiamo un pizzico di sale e poi possiamo mettere invece di mettere dello zucchero dello zucchero possiamo mettere del dolcificante quindi non lo frulleremo quindi abbiamo messo mezzo litro d'acqua 200 grammi di mandorle e man mano che andiamo avanti aggiungeremo altro mezzo litro d'acqua allora aggiungiamo due cucchiai di fruttosio allora abbiamo passato nel frullatore allora abbiamo passato al setaccio e anche con una con una garza tutto quanto qui c'è tutto lo scarto delle mandorle che questo lo potremo utilizzare per fare per fare dei biscotti ok lo mettiamo in bottiglia e poi lo mettiamo in frigo un paio d'odore e già si può assaggiare ed ecco il nostro litro di latte di mandorle è pronto adesso lo mettiamo in prego un saluto a tutti e alla prossima ricetta ciao 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 ciao